Vorrei mantenere la mia base, cioè vorrei che si vedesse un po' di schiaritura per illuminare un po' il viso. Brute! Un pochino, eh? Piastra? Tipo cinque mesi di mare, un po' di piastra, due volte a settimana, esatto? Notare i capelli, gialli e sfibrati. Farò un nuovo taglio con cartine chiare e scure. Che cosa stai facendo? Mi hanno portato via una sedia, non voglio dare un'altra. A che? Paolo, a che? A voi. Perché? Perché non è che si deve stare qui, perché serve a me questa sedia, che devo lavorare io adesso. Mi serve con la sedia? Questa sedia mi serve a me, dell'estetica. Quella è dell'estetica, Paolo, per fare il make-up. Eh vabbè, è uguale, facciamo i capelli qua. Sì? Cominci a sederti te? No. Una sorpresa. Una sorpresa. Guarda, stiamo già cambiando. Cos'è questo rumore? Cos'è questo rumore? Sendo anche tu. Cosa sei? Ma stai... Ma stai facendo? Sto guardando questo. Cosa? La linea. Per questo è spostato un po'. Ma Paolo! Sì? Stai guardando come facevo il taglio? Stavo solo esaminando qua. C'è questo rumore. Tagliamo. Lei ha cambiato. E tu? E tu? E tu? E tu?